Chiudiamo con una battuta, Scapagnini oltre ad essere un politico è come se tutti sanno il medico del personale del Premier di Berlusconi colui che si vanta di aver inventato queste lisir di lunga vita che tiene il Presidente giovane e pimpante è un blef secondo lei? Come medico oltre che come sindaco? No, come medico il professor Scapagnini è un grande medico, un grande essenziale per il resto si direbbe in Sicilia minchiata per dire più di un blef l'espressione giusta è minchiata